salve ragazzi benvenuti nel mio canale oggi ragazzi come potete ben vedere siamo qui su farming simulator 19 nella nostra bellissima mappa alpina ovviamente sulla erlingrath in compagnia del nostro buon collega che ora non vediamo all'orizzonte perché già lontano a falciare lui il nostro collega pasticcione steno 84 chiediamo il benvenuto buongiorno caro buongiorno buongiorno salve a tutti ragazzi e grazie come sempre per l'invito ma figurati ma figurati allora come vi ricordate nello scorso episodio ci siamo lasciati con appunto la falciatura del megacampo l'acquisto e l'inizio della falciatura e raccolta del megacampo per fare insilato dall'erba qui stiamo continuando purtroppo non sono riuscito off camera ad andare troppo avanti anzi in realtà non sono andato per niente avanti quindi dobbiamo ripartire di qui ma comunque nessun problema adesso ci raccogliamo tutto e poi facciamo una bella cosa come mi avete chiesto nei commenti metà campo lo arriamo e lo facciamo diventare campo coltivabile a quello che vogliamo noi frumento orzo eccetera 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 e l'altra metà probabilmente la metà superiore la lasciamo a lo arriamo e lo risseminiamo ad erba così almeno riproduce di nuovo al 100% anche perché adesso stiamo producendo quanto stiamo producendo te lo dice mentre falci quanto produce sì 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 siamo bassi siamo sul 60% immaginavo immaginavo infatti nero più più che convinto ormai qui il carico è quasi pieno credo che dovrò noleggiare un trattore un po più potente perché qui se no veramente non ce la sbrighiamo più siamo troppo troppo in pendenza allora facciamo una roba adesso anche se non è proprio carico carico vado giù scarico e vediamo se troviamo un trattore di almeno queste 230 io direi almeno 300 350 cavalli direi che già dovrebbe cavarsela ci sarebbe il l'xt3 che è 240 cavalli giusti giusti è snodato sì però chi se ne frega volendo potrebbe già andar bene bom con 2042 euro sono riuscito a prendere un trattore da 240 cavalli con doppie ruote meglio di così non si poteva chiedere l'affare dell'anno veramente per essere tranquilli ripari a forse vai un pelino piano perché non hai riparata vabbè la falciatrice non te la riparo tanto è quasi finito no perché non mi serve andare più veloce ecco però lo suite maker lo riparo è anche il il bel xt3 ok mi pare che se la cava un pelino meglio certo che fa comunque fatica non è che purtroppo questo è però devo dire un pelino meglio va a ecco perché faceva fatica cavallo c'era il ogni volta con questi snodati è sempre un'incognita perché sali scendi con sto con sto aggancio o adesso sì che se lo tira infatti dicevano perché va piano così e invece giustamente le ruote posteriori erano sollevate perché c'era l'aggancio sollevato o mamma mamma questi trattori ogni volta così cingolati non fanno per no cingolati scusate snodati non fanno per me hai le competenze per gli snodati allora dai scendi da quel trattore dai scendi 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 scarica tu facciamo a cambio che va così guarda così te ne vai te in montagna va fai tu fai tu un po di fatica io con lag però è la dai su su non ti lamentare adesso è no no vabbè ok ho capito nel frattempo che ste fa quelle cose lì noi facciamo una roba che in realtà ho fatto off camera ma poi purtroppo sbadatamente diciamo così ho dimenticato di salvare quindi è ritornata avevo tolto tutta la staccionata ovviamente con l'eliminazione degli oggetti con la h con la con la mod che non ricordo come si chiama raga mi dispiace ma la trovate nella sezione mod del gioco avevo tolto tutta questa bella roba qua perché io qua andrei a unire entrambi i campi per creare un unico mega campo da poter sfruttare quindi in realtà io sto dicendo una cavolata perché se noi vogliamo unire questi campi qua bom forse ne ho levato anche uno in più ma non fa niente se noi vogliamo eliminare voglio dire unire questi campi dobbiamo per forza di cose il campo ad erba farlo a valle e quindi a questo punto per il momento non sto a fare due campi ma ne faccio solamente uno e lo riseminiamo ad erba poi con calma vediamo cosa fare tanto per il momento campi coltivabili ne abbiamo a sufficienza e già mi bastano quindi voglio poi andare a togliere tutti quelli che sono gli alberi quassù quindi magari nel frattempo nel frattempo che tu ti dedichi lì io quasi quasi mi dedico a togliere tutti sti alberi qua perché poi questa parte di campo qua e questa parte di campo qua arrivare fino alla casa in realtà forse addirittura la casa la inglobiamo pure in mezzo al nostro campo vediamo e difatti arrivare proprio fino ai confini di quella casa lì è tutta roba nostra raga come vedete qui non è ancora stato tagliato nulla ma è tutta roba nostra quindi direi che forse sarà il caso di eliminare tutti sti alberi da tutti questi alberi ce li vendiamo ci facciamo anche un po' di soldi e inglobbiamo questi due pezzi di campo che sennò non potremo venire a tagliare in realtà quindi io partirei sicuramente con la bella motosega non ho voglia di prendere sinceramente la scuola hai fatto richiesta al comune non ti preoccupare sì ho le carte in studio poi te le faccio vedere hai le carte bollate hai le carte bollate ti faccio vedere poi non ti preoccupare dai tu devi chiedere sempre le cose che non devi chiedi sempre le cose che non devi io sai lo faccio per te sai lo faccio per te no 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 tranquillo non preoccuparti la tua sicurezza abbiamo già siamo già messi in pari diciamo con col comune via ci siamo già messi in pari eliminiamo la punta eliminiamo tutti i rametti che non ci frega niente poi li andiamo a caricare quasi quasi sul cassone da carico autoload poi vediamo un attimino come fare ma sono enormi sti alberi ci sono una roba spropositata veramente spropositata nonché stupenda perché sono bellissimi gli alberi così alti poi montagna devo dire che ci stanno molto bene tagliamo la punta che non serve a nessuno dica dica niente qualunque cosa tu stia facendo sì meglio che aspetti stai laggando non riesco più a fare niente però e là addirittura buon niente raga dobbiamo attendere ancora un secondino prima di terminare il taglio di quegli alberi la su in cima perché purtroppo se no il collega qui tende a laggare terribilmente allora lo aiutiamo un secondino con il con il nostro con la bellissima lavorazione della raccolta dell'erba bellissima ovviamente tra virgolette comunque se devo essere sincero pensavo uscisse molta più erba in realtà probabilmente non dobbiamo neanche andare al biogas a scaricare ma a me sembra invece il contrario ti sembra il contrario davvero? sì a me dà la sensazione che ce ne sia abbiamo appena raccolto quattro strisce però ti faccio notare sì e se non si baggasse magari tutto ti potrei dire anche che hai ragione ma si è letteralmente baggato il cassone dentro l'insilato qua dentro l'erba comunque devo dire a parte tutto ma comunque aperto così senza la barriera in mezzo da quel senso di ampiezza sta farm che è veramente molto bello molto grande così io sta prova vorrei farla se devo essere sincero cosa vorresti provare? c'è sto mega ranghinatore non so se però tra una file e l'altra riesco a prenderla però almeno se riducessi le file alla metà direi che non sarebbe male no? da due ne fai una? eh giusti giusti però proprio un po' giustini però dovrei riuscirci se sto proprio nel mezzo dovrei in teoria riuscirci vediamo un po' sì dai dovrei riuscire il mio il mio trattore qui blu sembra che stia quando vado indietro e sta facendo molta fatica sembra che stia per essere divorato da uno squalo a quanto di mena il muso ma che paragoni mi fai? è da panico lascialo perdere se vedi che ti danno problemi problematiche di sta maniera poveri ok raga allora ho fatto un bel po' un bel bel po' di andane stessi ha fatto un bel bel po' di carichi un po' di viaggi un bel po' direi però per quanto riguarda questa lavorazione per il momento ci fermiamo perché stiamo diventando pazzi talmente tanta erba sinceramente io non credevo ce ne fosse così tanta salve la prego non mi schiacci che se no qui facciamo veramente la frittata frittata sul silo esatto voilà terminato allora nel frattempo che tu fai tutto lì io vado a noleggiarmi il bellissimo autoload così prendiamo il camion vai così spegni allora noleggiamo l'autoload andiamo in equipaggiamenti per la silvicoltura e prendiamo quello 20 metri così almeno in teoria essendo che sono molto lunghi dovremmo riuscire a caricarli quasi quasi interi sarà un parolone perché saranno almeno 30 metri quelli lì però perlomeno buona parte beh insomma abbastanza lunghino comunque ottimo dai ok allora andiamo lassù piano piano mi dispiace non ti posso portare con me non ho abbastanza spazio nel camion prendo un cavallo prenditi il cavallo tra le motoseghe e tutta l'attrezzatura non ti ci stai più sopra ok eccoci arrivati col bestione qui al sito di taglio tutta questa zona qui esclusa proprio questi pochi alberi allora facciamo una roba tutti gli alberi che ci sono dopo questa roccia qua in linea d'aria tutti questi alberi qui e questi due alberi qui li tagliamo tutti quelli che sono oltre questa roccia qua che coprono la casa li lasciamo quindi praticamente dobbiamo tagliare questi tre qua sopra da qua in su insomma esatto da qua in su esatto esattamente iniziamo pure a tagliare così almeno ci portiamo un pelino avanti sempre che mi faccia tagliare perché qui vedo forse forse che questo qua non me lo fa tagliare ah si che me lo fa tagliare ottimo dai dedichiamoci a questa piccola lavorazione prima di salutarci questa raga purtroppo è la lunghezza che noi dobbiamo a cui noi dobbiamo stare in realtà penso che li taglierò praticamente a metà perché in realtà sono un pelino troppo lunghi credo cioè mi pare di vedere siano forse eccessivamente lunghi quindi facciamo un bel taglio qua che volevo vederli carichi l'impossibile io devo scendere anche la montagna ti ricordo non vorrei rimanere cosa? ah dici eh direi che tanto che devo scendere una montagna non vorrei sai trovarmi in condizioni che poi devo chiamare la forestale a venirmi a prendere con l'elicottero allora ragazzi è un po' complessa la situation ma in realtà credo che ce la stiamo credo perlomeno che ce la stiamo facendo ecco ah bene vai un altro ehi ehi piano eh piano che qui se ce ne andiamo giù è la fine accendi dai avanti ora facciamo O B ok carica me li carichi maledizione ogni volta devo schiacciare B ma che roba è sta qua però è fantastico che te li gira per il verso sì fantasticissimo guarda una roba a me basterebbe semplicemente che rimanesse acceso già sarebbe una cosa guarda mi sa che questo è da tagliare eh ho paura di sì ho paura proprio di eh di fatti me lo carichi anche questo ma certo che me lo carichi bravo maestro bellissimo bene bene ce la stiamo facendo raga piano piano tagliati a metà devo dire sono circa 15 metri più o meno 15-17 metri quindi sono belli belli alti devo ammettere e vai col carico ma che spentole che carichi vai col carico questo lo posiamo un peletto più in qua così vai con la B e vai che me lo carica andale così ma se io faccio O e poi B ma vai così ma vai così e poi facciamo O e poi facciamo B me lo carichi Mastro strano perché l'avevo tagliato sì è un pelino troppo lungo perché vedo che infatti non lo carica prova a tagliarlo un peletto vediamo se riesce mamma mia eccolo di fatti mamma mia però che fatica eh mamma ragazzi cioè una roba vado indietro che ne ha uno sotto e sai che cos'è però purtroppo il problema è che tende a baggarsi un pochettino si vede che è un peletto baggato il il come si chiama qui allora fa un po' ogni tanto non mi fa salire sul camion però a parte ciò devo dire che ce la siamo cavata abbiamo finito sì e ancora dobbiamo tagliare in realtà degli alberi che ci stanno lassù qui mi sa che la manovra qua siamo a fine mappa eh sì siamo ai confini proprio della mappa poi qua dovremmo togliere tutti i cosi vabbè vado un attimo un secondino a vendere vediamo quanto facciamo da sti da sti legnetti da sti quattro legnetti che abbiamo sì da sti quattro stuzzicadenti insomma esatto quattro stuzzicadenti da da trenta metri va bene trenta anche quaranta metri forse saranno sti alberi perché divisi a metà alcuni sono venti metri solo divisi a metà vediamo un attimino se non mi cappotto se non mi cappotto se non mi cappotto se non mi cappotto ecco oh no 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 non ci credo non ci credo no no per poco per poco che bello dai steva cosa mi fai fare io veramente ogni tanto guarda ottimo questi metodi sono sempre più efficaci allora dai andiamo a vendere voi non avete visto niente ovviamente non è successo nulla quindi voglio dire sani e salvi sani e salvi allora vediamo un po' è che traballa veramente in modo ridicolo talmente tanto traballa e venti allora vai così quarantaquattro mila euro ottimo ne è avanzato ancora uno altri mille euro più mille cinquanta mila euro ce li siamo fatti quasi quarantacinquemila euro ce li siamo fatti devo dire non male di qua ci passeremo ottimamente perfetto andiamo a tagliare la seconda ma la seconda secondo gruppo accidenti ok andiamo a fare la seconda secondo gruppo come detto che è quello laggiù e poi direi che concludiamo perché in realtà siamo già arrivati a un'ora ma speriamo di riuscire a tagliare abbastanza poi ovviamente raga tutti questi buchi che siamo andati a creare ovviamente li riempiremo con l'erba li andremo andremo a creare proprio il campo e a seminare qua mi sa che li dobbiamo tagliare tutti si direi che li tagliamo tutti qua perché tanto è inutile anche stare qui a perderci si dai ok raga dai nel frattempo che io finisco di tagliare le rame di quest'ultimo albero ovviamente vi ricordo che in descrizione potete trovare i miei link utili occhio compreso il link delle donazioni se volete fare un piccolo supportino al canale compreso il link per comprare questo ma anche tanti altri giochi scontati e ovviamente anche il link diretto per il canale del buon collega mi raccomando andatevi ad iscrivere grazie ottimo allora raga con il taglio di questi bellissimi alberoni guardate come taglia il buon ste guardate guardate mamma mia la forza brutta del contadino va bene ragazzi dai vi mandiamo un grosso saluto un saluto a ste un saluto a voi e ovviamente ci vediamo al prossimo video occhio che cade ciao a tutti ciao ciao